Se hai delle colombe e dello yogurt greco, devi assolutamente provare questi toast. Per la crema unisci un uovo allo yogurt greco, del miele a piacere, mischia bene tutto e poi tieni da parte il frigo. Ricava delle fette di colomba speste circa un centimetro, mettile su una teglia con della carta da forno e con le mani appiattiscile bene al centro. Versa ora su ogni fetta due cucchiai di crema e livellala per bene. Su alcune fette aggiungi dei lamponi freschi e lamelle di mandorle. Su altre invece delle gocce di cioccolato o quello che preferisci. Poi cuoci in forno per 15 minuti circa. Spolverizza con zucchero a velo e buon appetito!